buonasera a tutti benvenuti al webinar della urmet mi presento mi chiamo diego grotto e faccio parte del servizio di supporto tecnico commerciale oggi vi parleremo del focus del sistema tvcc soluzioni tecniche e funzionali prima di iniziare vi ringrazio intanto della vostra partecipazione a nomi mio ea nome della urmet vi do qualche informazione per quanto riguarda l'applicativo se utilizzate il pc avete in alto sulla destra una freccettina arancione aprendola potete scaricare a trovate un iconcina dove potete scaricare della documentazione sempre in quella dashboard trovate anche la possibilità di chattare direttamente con noi e nell'eventualità di porci delle domande che risponderemo quanto prima per chi utilizza un dispositivo mobile quali smartphone o tablet avete la possibilità sempre in alto sulla destra di trovarvi un punto di domanda dove potete inserire le vostre domande quindi la chat ufficiale e nell'iconsina al libro c'è la possibilità di scaricare tutta la documentazione durante il webinar abbiamo la possibilità anche di fare alcuni sondaggi dove vi chiediamo gentilmente di rispondere selezionando la risposta adeguata e premere il tasto invia a questo punto presento un collega che mi terrà compagnia in questo webinar simone mariani che si occupa della parte commerciale nella regione lazio ciao simone buonasera diego buonasera a tutti ringrazio urmet e diego insomma per l'opportunità di parlare in questo evento e direi di iniziare subito con un sondaggio sei un cliente che installa tvcc selezionare solo una voce si installo tvcc con tecnologia hd oppure si installo tvcc con tecnologia ip si installo entrambe le soluzioni oppure non installo al momento impianti di tvcc come quindi dovete selezionare una delle quattro voci e dare dopo invio aspettiamo ancora qualche istante potete selezionare la risposta che è grata direi di chiudere a questo punto il sondaggio e vediamo un po le risposte vediamo che una buona quantità sulla maggior parte degli installatori installano entrambe soluzioni quindi già hanno a che fare sia con tecnologia hd sia con ip questa sera ovviamente parleremo di installazioni di materiale ip una buona quantità ancora non installa in canti tvcc quindi sarà per loro un'ottima diciamo visione rilascio la parola a diego per il continuamento grazie simone e proseguiamo andiamo avanti con alcune considerazioni per quanto concerne il discorso tvcc e di particolarità nell'ambito di rivelazione controllo targhe urmet alla gestione della parte della telecamera per il riconoscimento targhe e una telecamera con doppia telecamera integrata infrarosto specifico la telecamera si comporta e quindi la visione l'abbiamo sia colori che in bianco e nero e abbiamo la possibilità di dare questo servizio direttamente al alla polizia municipale la quale può fare un controllo per quanto riguarda il discorso delle targhe questo per quanto concerne il discorso del dell'assicurazione e della revisione auto una case history urmet è una collaborazione tra urmet e team per quanto concerne il impianto di videocontrollo cittadino della città di moncalieri abbiamo installato quindi chiaramente come urmet abbiamo fornito la soluzione di 114 telecamere ad alta risoluzione sparse in giro per tutta la città con 4 megapixel tra l'altro le telecamere hanno anche la parte di analisi video intelligente e la fornitura di 10 telecamere per la lettura del targhe e quindi anche qui ci sono dei varchi dove abbiamo la possibilità di far verificare alla polizia municipale quale automobile entra in quel barco e magari è sprovvisto di assicurazione o della revisione auto altra particolarità come soluzione una novità per quanto riguarda la gamma di tvcc urmet e la soluzione thermal la nostra proposta si divide in tre categorie in tre tipologie di telecamere una a pannello lcd display da sette pollici l'altro è la termocamera portatile quindi la possibilità di visionare direttamente l'immagine nel display e le portatile quindi non abbiamo bisogno neanche di energia elettrica l'altra ancora è la telecamera per postazioni fisse tutte servono per la realizzazione della temperatura sempre per il discorso covid però per darvi uno spunto maggiore a riguardo di queste telecamere vi consiglio vivamente di vedere dei video tutorial e dei webinar che sono stati creati ad hoc per questa tipologia queste tipologie di telecamere e potete trovarlo direttamente su urme group social su youtube c'è praticamente tutta la parte dedicata alla gamma di termocamere e soprattutto il webinar dedicato ad esse vi lancio un breve filmato e ci vediamo dopo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.